La sua carriera politica è iniziata nel 1993 proprio nella sua città, Roccasecca, che ha guidato per due mandati consecutivi. Da sindaco a consigliere provinciale, passando per la regione Lazio, Antonio Abate, oggi è pronto a raccogliere una nuova sfida lanciata da un gruppo di giovani, tornare a guidare il comune di Roccasecca. Mi sono convinto, mai come oggi, che la sfida andasse raccolta, ma con un intento del tutto rinnovato. Mi sono circontato dei giovani e sono con loro, lancio la sfida a questa città che ha bisogno di essere rinnovata. Parlando di programmi, parlando di cose da fare, da dove partire? Indubbiamente da un'equità fiscale, una politica sociale che non sia di facciata ma sia concreta, la capacità di utilizzare le risorse che sono sempre di meno in maniera mirata attraverso progetti. Non si può pensare che amministrare significhi unicamente pensare a se stessi, al centro del buon amministratore, cioè l'interesse di tutti. Nota la sua passione di vita e di lavoro per la cultura. Pensando a Roccasecca, su cosa puntare? Guardi, non perché voglia essere campanilista, ma credo che Roccasecca sia uno dei comuni che, meglio di altri, può puntare unicamente sulla cultura. Ne abbiamo enormità diffuse in tutto il territorio, sia a livello di monumenti che di storia. E non da ultimo il Parco dei Conti di Aquino che aspetta che qualcuno finalmente si renda conto che da lì può arrivare la rinascita della nostra città. Il viaggio di Antonio Abbate per il territorio di Roccasecca inizia domenica sulla Casilina Nord, dove verrà inaugurata alle 16 la sede elettorale. Un punto di ritrovo e di confronto in cui far confluire le idee utili per creare rinomate premesse di sviluppo. Domenica 10 alle ore 16 inauguro una sede elettorale che sarà il luogo dove le nostre idee troveranno concretezza in progetti che poi saranno il nostro programma elettorale. Ed è la prima tappa di questo viaggio che immagino molto molto affascinante.